Mork chiama Orson, Mork chiama Orson. Eccomi Mork, qualche novità? So che ti piacciono tanto le sfide e quindi te ne ho preparata qualcuna, riguardo ai fluidi. Forza! È possibile sollevare una striscia di carta soffiando con una cannuccia? Certo, facilissimo. Ma soffiando sopra la striscia di carta? Mmm, mi sembra difficile. Aspetta che prendo il materiale. Ecco qui. Prova a soffiare dirigendo il getto d'aria tangenzialmente sopra il foglio di carta. Vero, il foglio si solleva. Ma cosa lo solleva? Te lo dico dopo. Eccone un'altra. Costruisci un piccolo ponte piegando una striscia di carta e appoggialo su un tavolo. Poi soffia con la cannuccia sotto il ponte. Che succede? Che il ponte vola via. Prova! Cavolo! Il ponte si abbassa e cerca di appiccicarsi al tavolo, nonostante il soffio con la cannuccia. Infine, metti una cannuccia in un bicchiere con dell'acqua e soffia con un'altra cannuccia tangenzialmente all'apertura della prima. Che fa l'acqua? Mmm, risale la cannuccia. E se ora tagli la cannuccia in modo che sporga poco dall'acqua e ripeti l'esperimento, che succede? Spruzzo acqua tutto intorno. Ma cosa spinge l'acqua su per la cannuccia? Forse, la spiegazione più semplice è questa. L'aria è composta da molecole che viaggiano continuamente in tutte le direzioni. E, come abbiamo già detto, la pressione è dovuta agli urti di queste molecole, per esempio con un foglio di carta. Normalmente il foglio sente tanti urti da sopra, quanti da sotto, e quindi sta fermo. Ma se si soffia, costringiamo le molecole ad andare in maggior parte in una direzione. Continuo io. Quindi, se si soffia direttamente contro un ostacolo, questo sente una forza, come quando si spegne una candelina. Ma se si soffia tangenzialmente, meno molecole urteranno il foglio e quindi la pressione dell'aria ferma dall'altra parte del foglio non sarà più equilibrata. Giusto! Quindi quello che spinge l'acqua su per la cannuccia è... La pressione dell'aria ferma sulla superficie del liquido. Molto bene! Lo stesso effetto è all'origine dei tiri curvi con le palle nel calcio, come nel baseball o nel ping pong. Quando una palla gira, trascina con sé un sottile strato di aria. Se, contemporaneamente, avanza, sente un vento contro di sé. Da una parte questo vento si somma con la velocità dell'aria trascinata, mentre dall'altro si sottrae. Quindi l'aria, rispetto alla palla, è più veloce da una parte che dall'altra. E quindi la palla viene deflessa verso il lato dove l'aria è più veloce. Gli sport con le palle devono essere più divertenti sulla terra che da noi, dove si svolgono nel vuoto. Quasi quasi. Propongo di cambiare le regole. Così, tra l'altro, non ci sarebbe più bisogno di giocare indossando le tute spaziali. Diventerai un innovatore, Orson! Alla prossima! Nano Nano! Ciao! 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 Grazie a tutti.